Un orologio, qualche centinaio di euro, qualche gioiello. Questo è il bottino di una banda di ladri entrate in azione ieri sera attorno alle 20, tra le frazioni di San Marco e Padule, creando panico tra i residenti e scompiglio tra gli ogubini che tramite gruppi WhatsApp e social hanno saputo subito dell'accaduto, addirittura di una presunta sparatoria. I carabinieri oggi smentiscono questa notizia e raccontano di essere intervenuti tempestivamente, arrivando a Padule, nella cosiddetta zona delle case popolari di via del Poderaccio, pochi istanti dopo che l'auto degli ladri se ne era andata. Si presume un Audi grigia che avrebbe preso la direzione della scuola della frazione, ma della quale poi si sono perse le tracce. La pattuglia dei carabinieri del comandante Zagua ha perlustrato l'intera zona est del comune per l'intera notte e le indagini proseguono ancora. Due furti e un tentativo di furto, questo il bilancio reso noto dalle forze dell'ordine, che non escludono che la banda sia la stessa che ha colpito anche sabato notte in una serie di abitazioni a Isola Fussara nel vicino comune di Scheggia. Ieri due uomini sarebbero entrati nell'appartamento al secondo piano di Padule, in via del Poderaccio, da una finestra con un terzo uomo presumibilmente rimasto nella macchina, parcheggiata in uno spazio adiacente. I vicini di casa dell'anziana vittima, che in quel momento era al bar, hanno sentito un gran baccano dall'appartamento al piano superiore ed hanno avvisato gli altri vicini della presenza di ladri. Lo scompiglio e l'agitazione è ancora tangibile nei racconti dei padulesi che dicono che in quella zona non era mai successo nulla del genere, ma che ora hanno paura anche nelle ore centrali della giornata. Dunque la raccomandazione è di segnalare sempre la presenza di autosospette, audio grigia o qualunque altra essa sia. Non si esclude infatti che la banda scelga le vittime dopo aver studiato i loro spostamenti. E l'Audi sembra aver catturato l'attenzione già di alcuni uomini nei giorni scorsi. Grazie. Grazie.